Fantastico, le spiego come fare I ragazzi nel cavo depositeranno sei borse nell'ascensore L'ascensore salirà al piano delle casse Tre delle sue guardie preleveranno le borse e le porteranno fuori del casino Se ci mettono più di venti secondi ad arrivare nelle sale O se ci accorgiamo che è stato fatto uno scambio Salta il denaro nelle borse e quello nel cavo È nel casino, avvicino alle slot Certo che sono nel casino Cioè per questo alloggio nel suo hotel E ho tre parole per lei Minibar da ladri Appena le sue guardie entreranno nelle sale Nel parcheggio arriverà un furgone bianco senza scritte Le sue guardie caricheranno le borse nel retro del furgone Se qualcuno si avvicina allo sportello dell'autista Facciamo saltare tutto Adesso, quando mi dicono che il furgone è lontano e il denaro è al sicuro I miei uomini usciranno dall'edificio E una volta che avremo confermato la loro incolumità Riavrà il suo cavolo Fantastico, le spiego come fare I ragazzi nel cavo depositeranno sei borse nell'ascensore L'ascensore salirà al piano delle casse Tre delle sue guardie preleveranno le borse e le porteranno fuori del casino Se ci mettono più di venti secondi ad arrivare nelle sale O se ci accorgiamo che è stato fatto uno scambio Salta il denaro nelle borse e quello nel cavo Certo che sono nel casino Se è per questo alloggio nel suo hotel E ho tre parole per lei Minibar da ladri Appena le sue guardie entreranno nelle sale Nel parcheggio arriverà un furgone bianco senza scritte Le sue guardie caricheranno le borse nel retro del furgone Se qualcuno si avvicina allo sportello dell'autista Facciamo saltare tutto Adesso, quando mi dicono che il furgone è lontano e il denaro è al sicuro I miei uomini usciranno dall'edificio E una volta che avremo confermato la loro incolumità Riavrà il suo cavo Riavrà il suo cavo Grazie mille